Al nord sarà ampiamente soleggiato ovunque, tuttavia non si escludono degli occasionali piovaschi al pomeriggio sui settori alpini del Triveneto e inoltre sui monti piemontesi, cielo sereno o poco nuvoloso invece altrove. Al centro addensamenti sul versante tirrenico, inoltre sulla Sardegna, qui in particolare non si escludono degli isolati temporali. Ampio soleggiamento invece sui restanti settori. Al sud sarà bel tempo su tutte le nostre regioni, qualche addensamento sui rilievi calabresi ci sarà ma senza ulteriori conseguenze. Aggiungo le sono ancora più piccoli, tempi più piccoli, più piccoli, potete vedere solo 20 gradi. Cioè, durante la tarda le precipitazioni saranno cedendo, saranno sempre più piccoli, però il cielo si quedara abbastanza nuboso. Un cibo più intensi e tormentosi in aree del sudeste peninsular, sin duda inestabilità e, ademais, all'arri si va a notar il descenso térmico. Come contamos, la situazione per i seguinti giorni ancora viene marcata per il calor intenso in gran parte di España e le tormenti che cominciano a afectare il sudeste peninsulari. Nicola mai, che disfrutate della noce. Vrei spuneam che vremea rimane calda e in marzo. Vom avea maxime di fino alla 15 gradi Celsius. Vremea va fi molto bella in tempo di zilei. Nori vor aparea per seara in centrul nord Moldovei, ma non prea vor aduce con ei precipitazioni. Deci, in schimb, di mercurio, temperatura incepe a scadere. La resta del sudeste peninsulari avutano. La resta del sudeste peninsulari, in special in jumatatea del nord. A ser, iată, doar 3 grade vor fii in Cluj i in Abraçov. Tot in aceste zone cerul va fi temporal noros. I per iarii răsprense vor cadea precipitazioni su forma de lapoviță și nisoare. Ia ci sono statele del vreme. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.